Musica classica al Varignana Music Festival fino a sabato 15 luglio, ce ne parla Pasquale Notargiacomo. Quattro edizioni, non più una scommessa ormai, ma una felice conferma. Anche quest'anno il Palazzo di Varignana torna a essere il centro della musica da camera, con un festival che ha preso il via venerdì e che fino a sabato 15 luglio porterà nella Villa Settecentesca, sulle colline bolognesi di Castel San Pietro pianisti affermati come Alexei Volodin e Alexander Romanowski, la signora del violoncello Natalia Gutmann, il quartetto di Cremona e, sempre al piano, l'astronascente Beatrice Rana. Sono soltanto alcuni dei protagonisti di un programma di livello europeo con nove concerti. A esibirsi nella prima serata sono stati il coro e l'orchestra del Varignana Music Festival, con intermezzi e cori d'opera da Rossini, Donizzetti, Verdi, Bellini e Mascagni. Fondati appositamente per la rassegna, coro e orchestra testimoniano il legame della manifestazione con il territorio. Abbiamo insieme raccogliendo i migliori elementi della Corelli di Ravenna e altrettanto di Chris del Coro, al quale abbiamo aggiunto professionisti dell'area bolognese. Ci piace utilizzare giovani e anche meno giovani artisti del nostro territorio per valorizzarli e per dare un segnale forte. Noi viviamo una realtà da un punto di vista musicale straordinaria. Un festival estivo che unisce nomi di prestigio alla formula collaudata dei resort, musica classica e turismo nell'atmosfera di una cornice suggestiva.